ciao ragazzi siamo qua per farvi vedere come costruire una pop-up ovvero un'esca egalizzante in 30 secondi questa è una classica boys affondante se il pesce mangia staccato da fondo addirittura galla è un problema automaticamente vi faccio vedere come farla le nostre forbici il nostro trapano questa qua è una plastica gommosa spugnosa da imballo del cellulare vi faccio vedere come farla diventare subito ovviamente dovete prendere una boys che abbia la consistenza giusta e lì dovete fare le vostre prove fare un buco con una punta molto letteralmente per andare giù la punta che scegliete deve essere dimensionata alla boys poi prendiamo la nostra plastica mettiamo dentro la nostra spugnetta vedete deve essere leggermente più grande del buco perché lei quando la spingiamo dentro si allarga e va in battuta per piene ecco qua ecco qua per quando il nostro pesce mangia in maniera a galla la nostra boys viene a galla poi a seconda della spugna potete farla andare molto su molto giù neutra dipende dai gusti ovviamente ragazzi tutorial pop up di full timer pesca iscrivetevi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti